Il 6 ottobre la comunità dei frati minori della custodia di Terra Santa si è riunita presso la chiesa del convento di San Salvatore a Gerusalemme per accogliere e benedire la professione solenne di due frati minori, Fra Marco Carrara dall'Italia e Fra Marlon Trinidad Mendez Pavon dal Nicaragua. La professione solenne è il momento dell'espressione pubblica dell'impegno di osservare per tutta la vita i voti di povertà, castità e obbedienza a servizio di Dio nell'ordine dei frati minori e della chiesa. Se dovessi riassumere tutto in tre frasi direi è Dio che vi ha scelto, è la sapienza della croce che vi guida, è l'amore fraterno la vostra norma di vita. Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa che ha anche sottolineato anzitudine è Dio che vi ha scelto. Questa è l'idea che unisce tutte e tre le letture. Abramo sente la voce di Dio che gli dice esci dalla tua terra e dalla casa di tuo padre e va verso il paese che io ti indicherò. La voce di Dio, la sua chiamata, è come un lampo nella notte. I neoprofessi hanno espresso la professione nelle mani del custode che li ha benedetti e accolti con un abbraccio. Accoglienza manifestata anche da parte della Fraternità Francescana insieme ai familiari e la comunità locale.